Oggi ci occupiamo del settore immobiliare e in particolare di quali fattori aiutano a incrementare il valore del nostro immobile. Secondo l'osservatorio casa.it, portale immobiliare con oltre 700.000 annunce, 3,5 milioni di utenti, la presenza del terrazzo può aumentare il prezzo del nostro appartamento fino al 22%, la presenza di più servizi possono far salire il valore fino a un massimo del 18%, mentre il riscaldamento autonomo e ascensore possono incrementare il valore dell'appartamento fino a un massimo del 17%. Analizzando nel dettaglio i vari dati, la presenza del terrazzo è particolarmente apprezzata a Milano, Roma e Bologna, città in cui il valore dell'immobile può salire del 20% circa, ma anche a Torino e a Napoli. A Bari invece la presenza del riscaldamento autonomo a fare la differenza. Il valore dell'immobile può infatti salire del 17%, percentuale che a sorpresa invece diminuisce nelle città del nord, soprattutto Padova, Milano e Torino. Per i milanesi, fra i tanti fattori, è sicuramente essenziale la presenza dell'ascensore, che può aumentare il prezzo dell'appartamento del 17% circa. Altra variabile assolutamente importante è la posizione. Un appartamento ai piani alti può infatti valere in più da un minimo del 3% a Napoli, a un massimo del 18% a Roma. Bene, per oggi è tutto, l'appuntamento con il commento del giorno e a domani, buona serata. Buonasera e benvenuti al Tre Giornale dell'Economia, cura della redazione del Sole 24 Ore Radio Core. Abbiamo questa edizione con una notizia che arriva dal Giappone. A 10 giorni di distanza dallo tsunami che ha devastato il paese, sono arrivate le prime stime della Banca Mondiale sulle ripercussioni che la catastrofe avrà sull'economia. Il costo alla ricostruzione potrebbe raggiungere 235 miliardi di dollari, pari cioè al 4% del prodotto interno lordo, mentre nella migliore delle ipotesi i costi ammonteranno a 122 miliardi. Solo per fare un confronto, il terremoto del 1995 provocò danni per 100 miliardi di dollari. Secondo la Banca Mondiale, il fenomeno sarà però temporaneo e la crescita dovrebbe ripartire dalla seconda metà di quest'anno. Intanto i giapponesi stanno cercando di rientrare nella normalità, tant'è che le aziende Sony e Nissan hanno annunciato la riapertura degli stabilimenti. Spostiamoci ora in Europa, dove il numero uno della Banca Centrale da parte di diversi paesi e di ristrutturazione del settore bancario durerà a lungo. Non è una battaglia che si vince in un giorno. Le buone prospettive sull'economia e le scommesse su una risoluzione a breve della crisi nucleare in Giappone hanno sostenuto le borse europee che hanno chiuso in rialzo la terza seduta consegna. Ciudiamo questa edizione con una notizia che riguarda le piccole e medie imprese italiane. La Banca Europea per gli investimenti ha messo a disposizione del gruppo Unicredit 400 milioni di euro per finanziare gli investimenti a favore delle aziende nel nostro paese. Sicuramente un buon incentivo per aiutare la nostra economia a risollevarsi. Bene, questa era l'ultima notizia del telegiornale dell'economia. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è a domani.